Chi coordina e chi dirige questa seconda edizione di informazione, di divulgazione e di prevenzione sono il dottor Michele Morelli che saluto e ringrazio e sono veramente contento di rivederlo qui un po' più vicino al microfono gentilmente, così mi sa dovrebbe andare bene, la sentiamo bene e ben trovato anche al dottor Gabriele Antonini che è il coordinatore scientifico di questa iniziativa Buonasera, grazie per l'invito Grazie a voi perché intanto sono molto contento di poter aiutare anche la gente a capire l'importanza del messaggio che lanceremo in questo appuntamento, è il secondo dicevamo no dottor Morelli Il secondo appuntamento, esattamente un anno fa abbiamo organizzato il primo di questi appuntamenti della prevenzione il dodicesimo in campo Abbiamo inteso organizzarne un altro, questo che si svolgerà sabato prossimo presso la sala stampa del centro sportivo di Formerlo proprio a voler ribadire la presenza della SS Lazio non solo fra la gente ma accanto alla gente sensibilizzandola per la salvaguardia della propria salute Questo è il senso fondamentale di questo evento proprio perché parleremo di prevenzione traumatologica come argomento prettamente sportivo ma anche di prevenzione oncologica che è un argomento che interessa tutti e voglio ribadire che questo evento sta a testimoniare la sensibilità di questa società nei confronti delle problematiche sociali mi viene in mente l'evento contro il bullismo dell'altro giorno e anche nell'ambito sanitario come questo evento che faremo sabato Aggiungo anche Lazio nelle scuole per dire come la sensibilizzazione anche verso i giovani verso messaggi positivi è interessante, qui mi rivolgo anche al dottor Antonini il doppio binario che citava Morelli quello sportivo ma anche quello oncologico che in realtà non sono poi così paralleli in realtà anzi purtroppo possono ovviamente incidere e incontrarsi Assolutamente quando noi pensiamo alla Lazio non dobbiamo pensare solamente alla prima squadra ma dobbiamo pensare a tutto quello che c'è intorno alla Lazio cominciando dal settore giovanile lo scorso anno abbiamo iniziato un percorso di screening sui ragazzi che partono dai pulcini fino ad arrivare ovviamente agli allievi alla primavera nella prevenzione, nella diagnostica delle più comuni patologie affezioni dell'apparato urogenitale dovete pensare che da quando c'è stata l'abolizione del servizio di leva purtroppo il controllo, il primo controllo dell'uomo viene effettuato verso i 35 anni cioè quando la persona pensa di poter costruire una famiglia magari prova ad avere dei figli e non riesce ad avere una gravidanza oggi si parla tanto di fecondazioni assistite di procreazioni medicalmente assistite proprio perché lo screening a monte non esiste quindi se c'è una condizione patologica tipo il varicocele che è una condizione frequentissima 9 uomini su 10 sono affetti di varicocele che non è una malattia ma è un qualcosa che può determinare una perdita della fertilità è ovvio che quando si arriva poi a un'età troppo matura diventa quasi impossibile curare questi problemi per non dimenticare poi quella che è la diagnosi del tumore al testicolo le donne fanno l'autopalpazione le donne vanno dal ginecologo già dai 14-15 anni perché mentalmente si preparano comunque nella loro concezione alla gravidanza, al parto quindi fanno una specie di check-up preventivo l'uomo purtroppo non effettua questo tipo di percorso e molte volte fare un'autopalpazione dei testicoli insegnare ai ragazzi a fare un'autopalpazione dei testicoli potrebbe veramente salvare la vita a tanti giovani che possono essere affetti da un tumore al testicolo e non saperlo giovani che poi hanno fisiologicamente dei propri pudori o probabilmente anche un senso di onnipotenza legata anche alla forza ovviamente dell'età io sono un testimonio al perfetto ve lo dico perché ho 41 anni e quindi sono ancora rientrato nell'epoca dei tre giorni di controllo del militare prima della partenza del servizio militare e sono diventato papà da un anno e mezzo quindi esattamente mi ritrovo in questa casistica che diceva il dottor Antonini e devo dire che quando ho fatto il mio primo controllo molti medici si sono complimentati con me perché effettivamente c'è poca attenzione o meglio c'è poca attenzione c'è poca voglia di misurare il proprio stato la propria salute in questo settore perché non riusciamo ad essere ancora così bravi nella prevenzione dei uomini dottor Morelli? non ci riusciamo fondamentalmente perché ci sentiamo tra virgolette garantiti per il fatto di essere uomini di essere maschi questa è una condizione psicologica sbagliata, paradossale il tumore al testicolo di cui parleremo va bene può essere facilmente diagnosticato con l'autopalpazione ma questo genere di manovra non rientra nelle abitudini dei maschi è molto più frequente nelle giovani donne che hanno una coscienza diversa della prevenzione perché hanno un contatto come diceva il collega Antonini precoce con lo specialista ginecologo questo per il maschio non avviene il nostro sforzo nel settore giovanile della Lazio dove noi operiamo è proprio questo di promuovere una sensibilità in questi ragazzi che diventeranno poi degli uomini nei confronti di queste patologie ed educarli ad una autoanalisi fin dalla giovanità di fatto è una vera e propria sostituzione appunto di quel controllo che c'era al servizio militare il riferimento anche cronistico è perfetto perché stiamo parlando di ragazzi al massimo intorno ai 18-19 anni quindi cominciandolo anche prima siamo praticamente nell'età che corrispondeva al momento della visita alla leva ma a maggior ragione adesso mi rivolgo anche ad Antonini per uno sportivo per un giovane sportivo è ancora più complicato aprirsi a questa realtà perché immagino chi faccia sport e chi fa sport si senta ancora più più forte di altri Assolutamente molte volte poi per lo sportivo c'è anche un altro aspetto che tratteremo sabato con degli specialisti del settore che è quello del doping molte volte l'assunzione di farmaci che tendono ad aumentare le prestazioni sportive migliorano sicuramente la forza fisica però danno dei danni incredibili a livello generale a livello dell'apparato genitale scusate incidendo fortemente sulla fertilità molti non riescono poi ad avere figli ma soprattutto possono determinare problemi anche di natura oncologica quindi una trasformazione oncologica del testicolo determinato appunto da steroidi anabolizzanti o sostanze dopanti che vengono assunte per migliorare le proprie prestazioni nello sport ci sono stati anche casi di sportivi affetti che invece per curarsi hanno dovuto fare affidamento a delle cure molto forti penso soprattutto ad Armstrong nel ciclismo per esempio c'è una situazione inversa particolare che probabilmente anche un nostro testimonial qui vicino potrà rappresentare il fatto che per esempio Francesco Acerbi abbia riscontrato da un esame antidoping una positività che non era frutto di un utilizzo di farmaci ma proprio invece dell'avvenimento che si stava per realizzare esattamente proprio perché alcune di queste patologie oncologiche e fra queste il tumore del testicolo può essere rintracciato attraverso alcuni marcatori biologici che possono essere riscontrati attraverso le analisi del sangue e delle urine è importante sottolineare quanto ha appena detto il collega Antonini che la maggior parte delle sostanze assunte a scopo doping quindi per migliorare le performance positive incidono notevolmente nel creare i presupposti per lo sviluppo di queste malattie soprattutto agendo a livello endocrinologico e quindi anche a livello del testicolo nel maschio è importante prevenire e essere anche coinvolte nella prevenzione anche nel rapporto di fiducia che c'è con il proprio medico quindi si deve creare questo tipo di rapporto indissolubile però è importante anche dottor Antonini la testimonianza di chi magari questa esperienza l'ha vissuta in questo caso abbiamo un'occasione che ci consente qui in Casa Lazio di far capire davvero cosa significhi passare per una malattia del genere per affrontare ovviamente uno stato come quello del tumore al testicolo che ha colpito appunto un calciatore assolutamente avere un testimone importante soprattutto come immagine nei giovani può determinare una sensibilizzazione ancora più importante nel diagnosticare in tempo molto molto precoce questo tipo di malattia pensiamo anche ad Ederson che è un ex giocatore della Lazio che ha avuto la stessa la stessa problematica in Brasile quindi non è così scontato che il tumore non venga purtroppo c'è una probabilità non molto alta però è una malattia che tra i 15 e i 40 anni si può sicuramente presentare e va diagnosticata in tempo anche perché fare una diagnosi precoce permette di risolvere e di guarire completamente da questo tipo di affezione Dottor Morelli è importante anche che quindi anche i ragazzi in questo caso gli sportivi possano ricordare anche la vita della propria famiglia perché poi ci sono anche casi di ereditarietà di predisposizione per meglio dire quindi bisogna instaurare con la parte medica un racconto dello storico che serve a voi ma serve anche a chi viene sottoposto a questo controllo assolutamente sì e quanto facciamo ogni anno all'inizio della stagione raccogliendo in maniera molto precisa la storia familiare e clinica cioè l'anamnesi familiare e quella fisiologica di questi ragazzi abituandoli ad assumere un atteggiamento confidenziale con il medico devo dire che l'aspetto sportivo facilita molto la creazione di questa confidenza e credo che i ragazzi che praticano sport ma non solo a livello professionistico o in società professionistiche come la Lazio hanno una possibilità in più per creare questa confidenza con il medico ma io mi auguro che questo possa diventare più generalizzato insomma possibile tra poco prima di salutarvi voglio ricordare poi tutto il programma perché si comincia sabato alle 9 e occuperà praticamente tutta la mattinata fino alle 13 quindi sono 4 ore molto molto interessanti perché i temi che vengono toccati e il coinvolgimento anche della famiglia Lazio leggo che è molto molto ampio abbiamo detto confidenza nel rapporto in questo caso atleta ragazzo e medico ma anche la consapevolezza cioè bisogna allenare la consapevolezza forse la confidenza a livello professionale in questo settore si crea automaticamente o comunque ci sono le condizioni per crescerla però la consapevolezza invece ha bisogno di maggiori informazioni no dottor Naturini assolutamente più informazione si fa più divulgazione si fa oggi abbiamo tante possibilità soprattutto con il web che può avere degli aspetti negativi quando si parla del dottor google però può avere tanti aspetti positivi e sensibilizzare molto le persone soprattutto i giovani nello specifico il grande assente sarà il dottor google che non ci sarà non parteciperà al convegno per fortuna ma in realtà ci sono tante tante figure tante personalità nel settore assolutamente sì alcuni dei quali abitano in casa Lazio parlo del nostro direttore sanitario il dottor Ivo Pulcini e del collega dottor Fabio Rodia responsabile sanitario della prima squadra della Lazio tantissimi temi guardate io adesso vi leggo qualche qualche spunto lo sport come profilassi e terapia il cuore nello sport a proposito appunto dell'intervento del dottor Pulcini test funzionali strumentali anche nella prevenzione degli infortuni un altro argomento molto interessante a me colpisce molto e se ne occuperà Sergio Bernardini anche l'affaticamento muscolare perché sono gli aspetti post sforzo che ogni tanto pensiamo di gestire in modo magari non propriamente corretto qui parlo di chi fa sport ovviamente a livello diciamo di hobby a livello individuale privato ma poi il doping l'abbiamo già toccato come argomento la prevenzione oncologica il tumore del testicolo quindi il caso specifico che abbiamo affrontato lo screening andrologico nel settore giovanile della Lazio e qui il dottor Antonini sarà anche relatore e poi c'è la presentazione del progetto medico sportivo Lazio e Università appunto di Tor Vergata vogliamo anche accennare a questo a questa conclusione è diciamo prossima la stipulazione di questa convenzione tra la Lazio e le Università di Roma 3 e di Tor Vergata in particolare delle facoltà di scienze motorie e di medicina dello sport questo proprio per creare un canale diretto tra queste due realtà la Lazio e il mondo scientifico accademico universitario per poter mettere a frutto le conoscenze e la tecnologia perché parliamo anche di bioingegneria di biosensoristica laboratori che l'Università di Tor Vergata ci può mettere a disposizione per personalizzare al massimo la preparazione la metodologia di allenamento e poi soprattutto la possibilità di attraverso questo progetto del Metaboloma di cui parlerà il professor Bernardini di poter monitorare la fatica sportiva l'affaticamento che è alla base degli infortuni noi con questo piccolo spaccato abbiamo cercato di dare un piccolo contributo l'importante è quello che arrivi il messaggio di essere un po' più sensibile all'argomento di togliersi anche un po' di pudori di preoccupazioni di timori perché c'è anche l'idea di non voler sapere che è meglio che conoscere magari invece uno stato di salute perché poi ognuno porta la propria esperienza privata e personale se posso aggiungere l'esperienza di mio papà lo dico perché cade nel giorno del suo compleanno e quindi lo voglio ricordare adesso la pecca fu proprio quella di attraverso un controllo scrupoloso ma tardivo di scoprire un tumore alla prostata che poi è stato comunque risolto curato però evidentemente se non passava per un amico confidente che no martellava martellava vai vai a farti curare probabilmente non conoscere lo stato di salute in quel momento sarebbe stato fatale in tempi brevi di solito di solito sono sempre le donne le mogli che portano i mariti quasi a forza perché hanno una mentalità è il mio caso diversa dovremmo imparare dalle donne cominciare a ragionare come le donne in termini di prevenzione sicuramente potremmo abbattere in modo sensibile i decessi considera che il tumore alla prostata è il tumore in questo momento che ha la maggiore incidenza nell'uomo e si diagnostica in un modo molto molto semplice basta una semplice visita e il dosaggio del PSA ematico esattamente no le dico esattamente non per confermare perché è materia che conosco molto molto da vicino ed effettivamente è una testimonianza che vuole servire anche a coinvolgere a spronare qualcun altro volevo solo aggiungere un'ultima cosa prego prego volevo anche dire che scoprire di essere affetti da un tumore del testicolo non è poi la fine del mondo e questo ce lo dimostrano tanti sportivi che superati le cure l'intervento le cure tornano al massimo livello della loro professione sportiva quindi anche questo deve è una barriera psicologica che deve essere superata proprio attraverso questo tipo di racconti e di situazioni che già esistono da molto tempo purtroppo e per fortuna allo stesso tempo perché è una realtà che va conosciuta e affrontata nel momento in cui fa parte del nostro quotidiano sarà invece nostro impegno ancora essere insieme sabato e quindi appuntamento al 16 marzo qui al centro sportivo di Formello a partire dalle 9 la prevenzione il dodicesimo in campo grazie al dottor Michele Morelli e al dottor Gabriele Antonini è stato un piacere spero importante anche il messaggio arrivato noi ancora qualche minuto insieme poi ci sarà il cambio della guardia anche qui in radio restate su Lazio Style Radio e Lazio Style Channel grazie a tutti grazie a tutti